la chat è questione di coerenza o o smembramento smembramento ghiaceto e smembramento adesso d'oreto cazzo vai non lo compi asa uno a terra un altro a terra manca l'ultimo colpo d'aria un colpo un colpo e dietro fatto di magnetato fatti tutti donno ora come li ho li ho carati bene in alto rega sopra la collina e sopra la collina una terra qui sono safe arrivo grandissimo cazzo che tempismo un altro terra bravissimo hai due stun è che uno è vicino il lancio il mio ping viola dietro il muretto da dietro dietro da dietro fatto ti mani è dato fatti tutti madonna madonna carry mode è attivato naked naked mode madonna questo grau madonna è il mio grau preferito adesso non lo cambio più what's up guys qui è il vostro naked che vi parla ragazzi siamo tornati con un nuovo video signori eccolo qua alle mie spalle super grauone nazionale del nakedone nazionale rivisitato potrei dire perché si baby guy allora avete visto nelle clip che l'ho provato senza mirino e poi vedrete definitivamente la configurazione alle mie spalle perché dovete sapere che nel caso in cui scioppazzate questo bundle avete un mirino metallico uguale identico per qualsiasi canna che verrà montata all'interno del grau come ben sapete il grau si tra virgolette si distingueva da alcune armi proprio perché in base alla canna che si inseriva il mirino metallico cambiava in questo caso no con questo progetto siete obbligati tra virgolette ad avere un mirino metallico che non è bellissimo mettiamolo così è un mirino chiuso come avete visto è un po' particolare il problema non è tanto se dovete fightare da vicino perché finché sono vicini si riesce tranquillamente a mirare il problema che mi sono accorto poi giocando che nel momento in cui i nemici sono a distanze abbastanza importanti ma neanche importanti vi parlo di 30-40 metri si fa veramente fatica a colpirli al meglio quindi come vedete alle mie spalle super grau è un mini raga potrei anche dire mini proprio perché è velocissimo velocissimo raga spara devo dire anche molto bene da medio raggio ovviamente non è per il lungo raggio raga non è fatto per sparare a distanze lontanissime ma per il corto e per il medio raggio ragazzi fa veramente paura allora primo accessorio silenziatorone monobloccone immancabile canna da 11 squal che è quella che trovate direttamente all'interno appunto del progetto e che nel caso in cui la volete sbloccare dovete in 5 partite fare 3 uccisioni a bruciapelo uccisioni a bruciapelo raga sono semplicemente le uccisioni da distanza ravvicinatissima cioè per per farvi contare un'uccisione a bruciapelo dovete ucciderlo veramente a massimo massimo ragazzi 50 centimetri da voi dopo di che ottica mini reflex g proprio perché non performava dal medio raggio con il mirino metallico quindi optato per un mini reflex g raga inutile dirvi che magari mettere un per 3 che ne so un lk3 può essere un pelo rischioso nel senso che potete smirare quindi se volete mettere qualsiasi ottica di zoom ridotto piccolino la potete montare tranquillamente perché ci vuole perché il mirino metallico non è ottimale ma poi vi dico che proprio questa classe mi piace assai 60 colpi sotto canna anteriore da commando ragazzuoli adesso vi lascio al video finale dove abbiamo vinto con i miei sub che ringrazio un sacco ci siamo divertiti abbiamo fatto una partita della come al solito lasciate un like a noi che donna nazionale passate da instagram ragazzuoli che lì si caricano le clip e questo mese ogni pomeriggio in live sulla piattaforma violacea bella ragazzuoli oddio sta filando tutto liscio come vai stai vitto prendo un avvio e lo lancio subito e dite bellissimo brian è strabello vuoi che bello vuoi che bello vuoi che bello andiamo sul tetto qua occhio uno scrocchiato bravo una terra finito dietro il fullman dietro il fullman serato ti hai mai nientato l'ho fatto sparavano la puntana della madonna un e il fullman ancora ma ci cecchino da dietro da dietro ragazzi andiamo a farlo questo no 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 dentro il fullman senza vita uno di vita fatto c'è gente dietro ragazzi ma avete guardi tirate non teniamoci lì no no a sabato ferragosto ma vero no raga cosa me è lì l'ho scrocchiato è morto ragazzi ma nientato madonna attiviamo la taglia guarda come l'ho fatto oro guarda come l'ho fatto oro adesso hai un valore brutto somaro quanta cattiveria l'altro dietro la roccia lì ho craccato a terra ti ho mai nientato ho fatto l'ultimo bravi bravi bravissimi si vola ho craccato uno vai bravo quello lì c'è l'autoressa bravo confermato sopra il tetto ragazzi sopra il tetto lì sopra il tetto lì uno a terra sopra il tetto lì 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 è da un palazzone lo sta restando dal tetto siamo ora siamo ora siamo sì sì siamo vai vai quanto cazzi altro sul tetto non lo so penso tipo un dici piani uno a setta la porta qua quanto righe bombardati mi ha bombardato qua due terra due terra si autoressano rega si autoressano mi autoressano mi autoressano si autoressato dimai nientato fatti tutti tutti fatti tutti ok allora da 2000 a botto cazzo uno di noi ci ha perso la vita grazie sono uscito però possiamo dire eh ho visto che ti sei fiondato nei linei dove dove sono visto confermato oh qua c'è un bombardamento di precisione lì lì certo a terra un'altima nientato giù siamo safe eh io ho un bombardamento ragazzi ragazzi saliamo su questo di tetto sì 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 andiamo 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 ma dietro dove 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 quello sul tetto secondo me a terra ti ha nientato a me mi hanno sparato da dietro il manientato nel pinga viola spiaghe ha aperto no abbiamo uno sotto ne abbiamo uno sotto un altro un altro al pinga viola qua lo pinga 15 metri sotto di noi l'altro là nella mia pezza bravo dove 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 sotto c'è un altro c'è un altro no vabbè non morirmi più di uno da dove più di uno è là sotto fatto si è manientato uno fatto uno vai quello lì è atterrato bravo tiragli il bomb tiragli il bomb uno là in fondo avanza io uno craccato in fondo no 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 cazzo pingato uno pingato uno una terra in fondo 2v2 2v1 è lì è lì è lì è dito tanti a me è dito tanti a me è dito tanti a me merda oh c'è due contro uno che cazzo è ce lo mangiamo ci muore se no dove cazzo è sta girando con la maschera o la maschera oro sale troppo probabilmente hai qua da me da me te lo stunno aspetta che mi scelto aspetta bene bravo 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 grande 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 cazzo grande bravissimo bravi 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 mica la maschera oro sicuro rega comunque è stato 30 secondi fuori safe fuori safe